Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù riprese a parlare e disse «In verità, in verità io vi dico, il figlio da se stesso non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa anche il figlio lo fa allo stesso modo. Il padre infatti ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste perché voi ne siate meravigliati. Come il padre resuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi egli vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha dato ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità, in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Pace bene, amici e ben ritrovati, in questa seconda domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista, sempre secondo il rito ambrosiano. Il Vangelo di oggi si presenta in una forma lineare, ma nello stesso tempo complessa, perché ci sono, troviamo, leggiamo alcune affermazioni di Gesù che ci lasciano un po' dubbiosi. Ad esempio, quando il Signore dice «Io da solo non posso far nulla senza il padre», come se dicesse o se si posizionasse in un gradino più sotto il padre. Invece sappiamo dalla nostra fede che non è così, perché c'è un'uguaglianza assoluta dentro le tre persone della Trinità, padre, figlio e spirito santo. Poi, se leggiamo e commentiamo, interpretiamo queste espressioni di Gesù nel Vangelo odierno, alla luce del capitolo quinto del Vangelo di Giovanni, troviamo che subito prima il Signore ha operato un grande miracolo, ha guarito un paralitico tale da 38 anni. E poi, se commentiamo queste frasi che Gesù pronuncia nel Vangelo di questa domenica, nel contesto dell'intero Vangelo di Giovanni, veniamo a conoscere come di fatto, da una parte, lui manifesta la sua onnipotenza di Dio, facendo risorgere dai morti, ad esempio Lazzaro, il figlio unico della vedova di Naime, eccetera. Dall'altra parte troviamo, nello stesso Vangelo di Giovanni, luce per leggere correttamente alcune espressioni che troviamo nel Vangelo di oggi. Vale a dire che il sommo desiderio di Gesù Cristo, scopriamo ad una lettura integrale del Vangelo, della vicenda del Gesù di Nazareth, che il sommo desiderio del Signore, di Gesù, era quello di fare la volontà del Padre. Il mio cibo è fare la volontà del Padre. Quindi, senza il volere del Padre, Gesù non si muove, ma non perché lui si ritrovi a obbedire come un burattino, un Dio inferiore al volere despota del Padre, ma perché l'amore che unisce i due, fanno sì di creare in entrambi un desiderio di comunione, di reciprocità, per cui il figlio vuole solo e unicamente quello che vuole il Padre. E il Padre, per raggiungere il suo progetto di salvezza, per realizzare la sua volontà salvifica nei confronti dell'uomo, vuole aver bisogno del figlio. Il figlio realizza il progetto del Padre e il figlio vuole semplicemente e unicamente ciò che vuole il Padre. Quindi, questa espressione enigmatica che lascia dei dubbi, delle perplessità circa la dignità del figlio come tale, come Dio, questa espressione, queste frasi, queste parole che troviamo sulla bocca del Signore, in realtà sono una rivelazione di questo amore, di questa comunione grande tra il Padre e il figlio. Per cui il figlio vuole soltanto quello che vuole il Padre. E farò anche dei miracoli ancora più grandi, perché questi segni possano suscitare una meraviglia dentro di voi, dice Gesù. E io do la vita, il Padre dà la vita, io do la vita. E chi crede in me e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna. Allora, veniamo a riconoscere come il Signore si lascia muovere da questa sintonia mai interrotta tra Lui e il Padre. E questo atteggiamento del Signore dovrebbe diventare un modello di vita per noi. Siamo figli nel figlio. Gesù è il nostro fratello maggiore. Allora dobbiamo anche noi operare nella vita, muoverci nella vita con questo desiderio che deve nascere dal profondo del nostro cuore. Il desiderio di volere quello che vuole Dio, perché Dio non può che volere il bene degli altri. E nella nostra nullità, nel nostro limite, nelle nostre incapacità, dentro il nostro peccato e nelle nostre fragilità, il lasciarsi guidare da questa volontà che si esprime attraverso lo Spirito Santo, il cui vento è il segno che rende più rivelatore l'azione dello Spirito. è un venticello leggero, occorre attenzione. E se noi ci lasciamo guidare da questo Spirito, la vela e la barca della nostra vita camminerà o seguirà quella rotta giusta che ci permetterà di vivere realizzando il progetto del Padre su di noi e tramite noi verso e a favore degli altri. Qualcuno faceva questo esempio, secondo me è molto significativo. Nella misura in cui noi ci lasciamo come vela tendere dal soffio dello Spirito, la nostra direzione non potrà essere che quella giusta. E questa vela che si tende, al limite del possibile, all'azione del vento e dello Spirito, farà procedere speditamente la barca della nostra vita. E allora chiediamo al Signore in questa domenica di renderci disponibili e rendiamoci disponibili all'azione di questo Spirito. Il Papa ultimamente ha affermato in una sua emulia che i cristiani non sono quelli che prendono due, tre, quattro, cinque lauree alla Lateranese o all'Università Gregoriana di Roma, ma il cristiano vero è quello che si lascia condurre dallo Spirito Santo e quindi lasciamoci condurre da questo Spirito perché faremo cose grandi con il Signore nel Signore. Pace bene amici, a risentirci, alla prossima domenica e buona giornata nel Signore. Pace bene amici è di nuovo. Grazie a tutti.